Nuova sconfitta per la Turris, battuta nel pomeriggio di ieri dal Palermo con il risultato di 2-1. Losaneri che approfittano di un momento di totale appannamento in casa Corallina, che perdura ormai da settimane e a cui tarda ad arrivare la luce in fondo a tunnel. A decidere il match è una doppietta dell'attaccante Lorenzo Lucca, che al 29esimo porta in vantaggio i suoi, insaccando alle spalle del portiere a Bagnale. Svantaggio che sembra dare una minima scossa ai padroni di casa, che trovano con Romano la rete del momentaneo 1-1, a pochi attimi dal termine della prima frazione. Nei secondi 45 minuti il Copiune resta invariato, con il secondo gol di Lucca che non trova la risposta degli avversari. Il peso di un'altra sconfitta comincia inevitabilmente a pesare nelle gambe dei Corallini, non capaci di creare apprezzioni particolari a Pelagotti. Nel finale anche la frustrazione si fa sentire, così come testimone all'espulsione di Reinone. È forse nella testa il blackout in quel corso la Turris, che rincorre da fin troppo tempo una vittoria che darebbe morale e punti chiave per il discorso salvezza. Invece è arrivata un'altra sconfitta, nuovo passo falso che rischia di mettere concretamente la squadra di Torre del Greco nel calderone della zona play-out. Di fondamentale importanza è il prossimo match, diventato a questo punto sconto diretto per la salvezza. I Corallini saranno ospiti domenica pomeriggio alle 17.30 in casa della Paganese. Incontro che si preannuncia cruciale e l'attuale stato di forma rischia di giocare un brutto scherzo ai ragazzi di Fabiano. Urge dunque un cambio di passo, sia dal punto di vista della mentalità che del gioco, per evitare che quanto di buono fatto nel giro di andata sia vanificato da questa difficile parentesi, nella speranza che si possa uscire dalla crisi quanto prima.